Serie B Eurobet Questa è la mia casa Questo è il mio sogno Questa è la mia famiglia Serie B Eurobet Appassionati Matteo Bruscagine, da quando aspettavi questa partita intera? Da tanto, sicuramente fa piacere aver ritrovato il campo Fa piacere aver fatto una buona partita Però dispiace per il risultato Perché potevamo ottenere di più Potevamo fare di più E quindi è un motivo in più per ripartire forte già da sabato col Crotone In V, l'ultima volta, da quando è che non giocavi una partita intera? Una partita intera, un grossetto Atalanta In maggio 2011 Ottima memoria, ottima attività mnemonica Visto che rimani un giocatore da trasferta finora Hai citato il Crotone prima Può essere la volta buona di vederti al Francioni Dove sei stato protagonista nell'ultimo anno e mezzo? Ma io ci spero Sicuramente ho fatto un'ottima partita a Terni Sono a disposizione, poi sceglierò il mister Io sicuramente ci spero Dopo questa buona prestazione ci spero E farò di tutto in settimana per meritarmi la confermo Una sconfitta che non può certo cancellare e zerare quello che avete fatto finora Come vi considerate? Squadra dai playoff, squadra di mezza classifica Che latina è? È una latina che deve fare altri 24 punti più in fretta possibile E poi se ne parlerà Però l'obiettivo resta ancora quello Prima faremo questi punti E poi tutto quello che verrà in più Sarà un divertimento Sarà bello divertirci Sarà bello divertirci